Don Renzo Bonetti ad Arezzo nella parrocchia di Pescaiola per parlare di famiglia. Perché è importante tornare a parlare di famiglia quest'oggi? Perché fa parte della nostra vita, credo che parlare di famiglia significa parlare della nostra storia, parlare del desiderio che abbiamo, parlare di qualcosa che dentro di noi ha lasciato una ferita, parlare di una speranza. Oggi parlare di famiglia significa anche parlare concretamente dell'identità più profonda, dell'essere uomo, dell'essere donna e della bellezza di questa unità straordinaria nell'amore. Lei ha una profonda esperienza pastorale, di pastorale della famiglia. Si sente di dare qualche consiglio alle coppie aretine? Sì, è decisamente sul piano della fede che noi dobbiamo guardare come cristiani ciò che fa la differenza. Esattamente, la fede fa la differenza perché con la fede noi andiamo a guardare la coppia e la famiglia in un'ottica totalmente diversa che certamente non prescinde dall'essere uomo o donna ma che a partire da questo dono, essere immagine e somiglianza, la proietta dentro questo percorso di immagine e somiglianza. Ecco, è tornato di grande attualità il tema dell'accompagnamento da parte della Chiesa, delle coppie separati, in stato di separazione o di divorzio. Ecco, cosa concretamente può fare la Chiesa? Io credo che la Chiesa, cioè le comunità cristiane, innanzitutto debbano accogliere questi fratelli. I divorziati risposati continuano ad essere figli di Dio, amati da Dio. Noi dobbiamo certamente continuare ad affermare l'indissolubilità del matrimonio, ma simultaneamente all'indissolubilità del matrimonio noi dobbiamo affermare che Dio è misericordia, Dio è sempre accoglienza.